Il lavoro e soprattutto i diritti dei lavoratori devono tornare ad essere al centro dell'impegno della politica. Lo ha ribadito quest'oggi a Torino il leader del Partito Comunista Marco Rizzo. Ma ascoltiamo allora le sue parole. L'Assemblea Nazionale dei Lavoratori Comunisti ci lancia un segnale importante. Il lavoro viene messo da parte sempre di più. Si torna agli anni del secolo scorso come diritti, come capacità di contare per il lavoro. Invece chi produce la vera ricchezza del Paese sono proprio i lavoratori.